In principio furono 44 miliardi di dollari, ovvero la cifra che Elon Musk tirò fuori qualche mese fa per comprarsi Twitter, per iniziare la rivoluzione degli anni 20 dei social network. Che oramai hanno un ventennio, Facebook è del 2004 e sicuramente tutti noi abbiamo iniziato, secondo me, tra la fine degli anni 0 e l'inizio degli anni 10 a giocare con quelle che oramai sono diventate molto più che realtà consolidate. Facebook, Instagram, ovviamente Twitter sono stati i luoghi dove sono cresciute passioni, dove si sono alimentate, se vogliamo, tendenze, dove sono nati rapporti e in qualche modo anche evolute community e sicuramente uno dei principali posti dove tutto ciò è avvenuto è sicuramente una Twitter diversa da quella di oggi. E oggi voglio partire in realtà da un avvenimento che prosegue un po' il trend di questi ultimi anni, ovvero quello di avere una propria identità che secondo me era anche un aspetto positivo che il vecchio Twitter in qualche modo non aveva, che è ovviamente la cancellazione da parte di Elon Musk o meglio della forte limitazione da parte di Elon Musk attraverso dei prezzi proibitivi che ha portato la cancellazione, la chiusura di tutte le applicazioni, di tutti i client Twitter di terze parti. Perché voglio partire con questo ricordo nell'episodio di oggi in cui ovviamente parliamo di Twitter ma parliamo anche di quello che ad oggi è un competitor abbastanza importante. Perché 15 anni e due giorni fa venne lanciato App Store che sicuramente è un luogo virtuale dove è nato un modo diverso di fare economia. Addirittura un po' di tempo fa si parlava proprio di app economy e quindi nel corso degli anni abbiamo imparato a conoscere diversi modi di interagire attraverso i nostri smartphone, i nostri tablet, i nostri computer e sicuramente tra le applicazioni che più ricordo con affetto forse l'applicazione che più ho amato è Tweetbot che era la mia finestra su Twitter, era il mio modo che avevo per guardare e per giocare con un social network che era molto più di quella che poi adesso è l'interfaccia che devo per forza utilizzare. Che per chi aveva in precedenza non ha cambiato molto ma per chi come nel mio caso è dovuto passare da Tweetbot o comunque da un client di terze parti, io ultimamente usavo Spring, all'applicazione nativa ha perso tanti notevoli vantaggi. Ad esempio io avevo in Tweetbot tutta una sezione di mute filters che avevo sviluppato in qualcosa tipo 10 anni quindi in qualche modo ero andato a personalizzarmi la timeline con hashtag mutati, con parole chiave mutate, con client mutati per esempio saluto il buon Alessandro che sicuramente mi sta rascoltando che ha tra i suoi modi di condividere cose online la geolocalizzazione quindi adesso se vado su Twitter so che si trova in quel ristorante, in quell'hotel, in quella piscina, al supermercato, al cinema ad esempio a me è un aspetto che non interessa quindi avevo mutato all'epoca Foursquare quindi quando le persone si geotaggavano in diverse parti e quindi in qualche modo raccontavano, condividevano da quel punto di vista la loro vita online, a me onestamente non importava nulla e quindi avevo mutato quella sorgente esattamente come avevo mutato tutti i link che portavano ad Instagram perché se io volevo vedere un contenuto Instagram original aprivo l'applicazione di Instagram e quindi Tweetbot nel mio caso era sì avere la timeline sincronizzata tra iPhone, iPad e Mac ma era anche appunto il wall di mute filters che negli anni avevo in qualche modo costruito ma era anche usare Twitter in timeline diverse quindi oltre alle persone che seguo e che uso come social network avevo le varie liste, c'ho le persone che apprezzano Apple e quindi avevo una timeline di appassionati Apple che magari non seguo nella mia timeline principale però interagivo con loro in altro modo così come negli anni ho utilizzato le liste per tenermi aggiornato prima sulla pandemia poi sul scontro Ucraina-Russia quindi da questo punto di vista mi rendo conto di come alla fine il ruolo degli sviluppatori nel corso degli anni sia stato utile nel mio caso anche per apprezzare Twitter quindi in questo caso voglio iniziare la puntata di oggi ricordando ovviamente tutto il team di Tapbots che poi è formato da due persone da Paul Haddad e da Mark Irvine credo che hanno costruito quella che era la mia finestra su Twitter ovviamente di Tweetbot in qualche modo adesso abbiamo un'erede che si chiama Ivory che in qualche modo prende tutta l'eredità ma che dal canto suo ha qualcosa di diverso che si chiama Mastodon come origine delle fonti e oggi parliamo di Mastodon, parliamo di Blue Sky, parliamo di Threads ma soprattutto parliamo di Twitter oggi come ci troviamo con i social network perché secondo me il vero social network è il servizio di microblogging è vero c'è TikTok, c'è Instagram, c'è Facebook ma quella che per me è la percezione di community la trovo in un servizio di microblogging ho un account su Instagram ho un account su Facebook ho un account su TikTok ma sono molto meno fruitore di quelle piattaforme rispetto a Twitter Twitter è sempre stata la mia piattaforma di riferimento nel corso degli anni ho alimentato la community tech nel senso che mi piace far parte della community con tanti di voi ho iniziato a scambiare pareri su Twitter, in pubblico e in DM ho conosciuto tante persone su Twitter e quindi nel corso degli anni ho sempre visto Twitter come inizio di qualcosa di positivo tutto quello che è il mio bagaglio culturale di Twitter diciamolo così lo vedete poi nelle varie puntate lo sentite poi negli episodi di E-Tech perché quando c'è un avvenimento soprattutto un avvenimento tech prima di tutto lo scopriamo su Twitter quando esce una beta dove lo scopriamo su Twitter quando esce un comunicato stampa di Apple dove lo leggiamo su Twitter e ovviamente Twitter è sempre stato il social network della breaking news c'è un terremoto sentiamo un po' il terreno vibrare cosa facciamo? apriamo Twitter cerchiamo hashtag terremoto e vediamo se siamo stati solo noi a non aver ancora smaltito l'alcol della sera precedente oppure se comunque è qualcosa di collettivo oppure pensiamo semplicemente tutte le notifiche IT alert delle scorse settimane dove abbiamo visto il panico scatenarsi su Twitter dove commentiamo un Sanremo un grande fratello VIP oppure dove si cresce anche come community da un punto di vista sportivo attraverso Twitter quindi nel mio caso Twitter è sempre stato il mio social network di riferimento con Elon Musk le cose negli ultimi anni negli ultimi mesi sono cambiate dalla chiusura dei vari client di terze parti che ricordavo nell'intro fino ai limiti assurdi dello scorso weekend nel quale chi non aveva la verifica poteva semplicemente tra virgolette leggere 600 tweet al giorno chi aveva la verifica 6.000 che poi sono aumentate rispettivamente a 1.000 e a 10.000 tweet però da un certo punto di vista si vede che la piattaforma sta cambiando prima era un certo tipo di social network adesso sta diventando un aggregatore abbiamo i vocali nei DM avremo le chiamate vocali e le videochiamate quindi da questo punto di vista vedo una Twitter che ha molta voglia di spostarsi di più su una Facebook su una Telegram pensiamo semplicemente a quando i tweet erano di 140 caratteri ora sono da 280 e chi ha la verifica può fare praticamente dei post di Facebook fino credo a 50.000 caratteri quindi da questo punto di vista quello che Twitter sta diventando è comunque qualcosa di molto diverso da quella che era l'esperienza originaria e ovviamente quando ci sono dei cambiamenti radicali intervengono ovviamente gli utenti che hanno voglia di ritornare a quel cuore pulsante che nel tempo è sempre stato il social network di riferimento quindi in questo caso il vecchio Twitter e nel tempo appunto abbiamo vissuto o meglio negli ultimi mesi abbiamo vissuto almeno delle prove di migrazione prima c'è stato ovviamente il fediverso con Mastodon ovviamente tutti abbiamo iniziato a vedere anche a Blue Sky quindi una piattaforma che ricorda molto la vecchia Twitter e poi adesso da una settimana più o meno conosciamo Threads che è il nuovo social network lanciato da Instagram che non è ancora disponibile in Italia ma che più o meno prende un po' le redini di Twitter e le porta in un mercato molto consumer che è ovviamente quello molto inflazionato di Instagram e uso questo termine non a caso perché partiamo da due community diverse quando una persona si iscrive a Twitter ha un certo orientamento nell'utilizzo della piattaforma quindi diciamo che l'utilizzo che un utente medio di Twitter fa ancora oggi è quello di cercare magari persone non facente parte della propria sfera di conoscenze in carne ed ossa ma magari cercare anche persone che hanno una passione in comune tante persone che conosco la maggior parte se non tutti gli ospiti che avete sentito negli anni attraverso appunto le co-conduzioni qui su Yoetech a partire ovviamente da Alberto a Giulio a Leonardo e a tutti quelli che avete sentito a Fra li ho conosciuti attraverso Twitter e nel tempo sono diventate persone a cui io devo molto sono amici che ho conosciuto su Twitter e che nel tempo hanno portato comunque ad entrare a far parte della sfera personale magari su Instagram tendiamo più ad avere persone che conosciamo a parte ovviamente il mondo degli influencer ma questo deve essere per forza un capitolo a parte e quindi in qualche modo quando abbiamo un nuovo social network che si deve necessariamente connettere a Instagram troviamo poi un pubblico diverso troviamo sicuramente magari la voglia di condividere meno informazioni di un certo tipo rispetto a quelli che nel tempo magari sono diventati dei temi o dei trend che vengono commentati ad esempio su Twitter e qua veniamo a quella che è stata la mia esperienza con Freds io vi devo dire la verità non lo volevo provare non perché non mi interessasse ovviamente è una qualcosa che riguarda il mondo tecnologico quindi da utente e da soprattutto persona che vuole un po' avere le mani dappertutto esattamente come mi sono iscritto a Mastodon esattamente come mi sono iscritto a Blue Sky mi volevo iscrivere a Freds però non volevo fare il classico giochino di fai l'account americano fai logout con l'account italiano entra sull'App Store con l'account americano scarica Freds fai logout con l'account americano rientra con l'account italiano eccetera eccetera perché è uno sbattimento ovviamente ci sono 478 gradi quindi non ne avevo onestamente voglia quello che succede poi è che venerdì mattina mi arriva sul telegram un buon messaggio da parte di Deborah che ringrazio che mi dice sai che se tu clicchi qui vai direttamente su test flight ti puoi scaricare la versione beta di Freds e non devi fare il giochino ho detto è così semplice si bypassa tutta la questione del politico del blocco geopolitico per il digital service act si facciamolo quindi io venerdì mattina ho detto sai cosa c'è mi faccio Freds e inizio ad utilizzarlo e vi devo dire la verità la curiosità era tanta però poi ho iniziato a incontrare i limiti di una piattaforma e il limite principale che è un po' il mio crucio contro Mark Zuckerberg è quello della limitazione dell'app al solo smartphone ed è se vogliamo più che una lamentela una crociata che all'epoca avevo fatto anche su un iPad Guy Mark Zuckerberg odia i tablet Adam Mosseri non sopporta gli iPad ricordiamoci sempre dello scambio di tweet ovviamente quindi su una piattaforma che adesso magari sarebbe potuta essere diversa tra Mosseri che è il CEO di Instagram e Marques Brownlee quindi forse il l'influencer il più grande influencer del mondo della tecnologia perché non c'è ancora nel 2021 l'app o nel 2022 l'app per iPad perché l'utenza di iPad è poco diffusa cioè nessuno si cagherebbe l'applicazione di Instagram per iPad ok va bene ci appassi portaca come dicono a Milano e non abbiamo ancora nel 2023 l'app di Instagram per iPad però ci sta Instagram comunque innanzitutto ha una versione web che funziona abbastanza bene ma soprattutto usa un media diverso perché usa diciamo principalmente altri modi di interagire con con l'utenza quindi abbiamo le foto abbiamo i video in qualsiasi formato abbiamo le stories abbiamo i reels quindi in ogni caso abbiamo un formato e comunque anche un metodo di racconto che è sviluppato per essere utilizzato attraverso lo smartphone pensiamo semplicemente a quello che ad oggi è il modo di condividere su Instagram quindi come sono fisicamente fatte le stories sono in 18 noni quindi sono in formato smartphone quindi difficilmente magari un'utenza business perché principalmente potrebbe essere il diciamo l'agenzia che pensa alla ricerca di una strategia di mercato a ripensare magari tutto quello che poi è anche marketing campagna marketing se le stories dovessero fare altri altri balzi futuristici in avanti cioè per me potrebbe benissimo essere un contenuto riproducibile da qualsiasi parte però capisco anche perché nel corso del 2023 non abbiamo ancora un'app di Instagram per tablet però onestamente trovo vergognoso a metà luglio 2023 non avere ancora un'app di Whatsapp per tablet sicuramente avere già lanciato l'app per tablet Android e quindi anzi neanche per tablet Android per tablet Samsung è qualcosa di onestamente imbarazzante non avere la controparte per il tablet più diffuso eppure oggi è così e paragono threads a Whatsapp perché è un social network formato testo ad oggi Instagram nel corso almeno del 2023 lo abbiamo per smartphone perché è pensato per quel tipo di frizione abbiamo detto mentre threads è un social network pensato per qualsiasi tipo di dispositivo il testo lo possiamo leggere in tutti i formati in tutti i luoghi in tutti i laghi su qualunque piattaforma quindi lo leggiamo su un tablet lo possiamo leggere su un telefono lo possiamo leggere su un computer quindi la cosa che onestamente trovo imbarazzante il 12 luglio del 2023 è che non abbiamo ancora un'applicazione per tablet e probabilmente non l'avremo visto lo storico visto che abbiamo un'applicazione di Facebook che però è ancora ancorata scusate il gioco di parole alla vecchia grafica non abbiamo ancora appunto un'app per Whatsapp e non abbiamo un'app per Instagram perché dovrebbe arrivare l'app di Threads per tablet onestamente non lo so e spero che visto che Threads farà parte in futuro del fediverso magari avremo la possibilità di guardare i contenuti di Threads anche attraverso i client tipo Ivory quindi magari in un futuro io potrei tornare ad utilizzare un'applicazione curata con lo stesso dettaglio di Tweetbot però pensato per un social network che sta ricevendo la giusta diffusione perché da un punto di vista prettamente contenutistico non c'è nulla che nel 2023 non vada riconosciuto a Threads i numeri che sta facendo sono numeri più importanti di quelli persino di ChagPT come engagement come numeri che in qualche modo poi attaccano anche la piattaforma come persone che iniziano ad utilizzare Threads però nel mio caso senza l'applicazione per tablet è un po' un'applicazione morta perché io lo smartphone lo uso veramente poco e quando è che uso lo smartphone quando sono fuori casa e se sono fuori casa difficilmente mi metto a guardare twitter mi metto a guardare instagram mi metto a guardare facebook mi metto a guardare magari telegram mi metto a guardare i message e basta non mi metto lì nel corso del 2023 nel nel modo più assoluto ad utilizzare uno schermo da 6,1 pollici se non addirittura uno da 5 pollici 4 per guardare un contenuto perché come ho già ripetuto più e più volte se io voglio godermi un contenuto me lo vedo sull'iPad Pro da 13 pollici oppure la sera sul divano sull'iPad mini da 8 pollici 3 che sono perfettamente in formato threads perché ripeto il testo non ha bisogno di formattazioni lungo e largo non ha bisogno di canone adesso il problema del 2023 di Instagram è il canone che poi boh perché alla fine TikTok ha anche l'applicazione per tablet che funziona molto bene lo vedo dal fatto che mio papà usa quel social network soprattutto su iPad quindi se Instagram volesse non credo ci mette più di una settimana a fare l'applicazione per tablet però boh scelte loro threads però sì perché il micro blogging secondo me come social network è pensato per ogni tipo di schermo quindi come mi sto trovando con threads mi sto trovando bene perché è un social network dove la gente ha trovato entusiasmo se dovessi scegliere la parola che in qualche modo premia threads è entusiasmo perché c'è voglia di avere un'applicazione solida che purtroppo la gente non riesce più a riconoscere in twitter perché Elon Musk sta facendo dei cambiamenti repentini ha chiuso le community vuol rimandare i twitter circle quindi da questo punto di vista quindi i circle che poi sono in qualche modo le storie verdi di instagram le community erano delle timeline private quindi da questo punto di vista mi rendo conto che quando io voglio avere un contenuto in qualche modo molto diciamo accogliente voglio qualcosa che non vada a stravolgersi da un giorno all'altro e purtroppo quello che Elon Musk ad oggi ci sta presentando come nuovo twitter è una piattaforma dove le cose cambiano repentinamente pensiamo solamente ai limiti 600 800 1000 tweet da leggere ogni giorno perché questi cambiamenti repentini alla gente vuoi alla gente serve una cosa più tranquilla quindi da un certo punto di vista tante persone hanno portato i loro contenuti nel fediverso tante persone dicono ok io do già in pasto tutti i miei dati ad instagram quindi uso threads e ho letto tante persone che stanno facendo questo ragionamento nel mio caso io continuo ad essere principalmente attivo su twitter perché lì è casa mia tra virgolette io pur non sentendo fisicamente ovviamente è un social elettro comunque non sentendo lo spazio dove mi trovo ma i contenuti sono quelli le persone che seguo sono quelle e difficilmente cerco la stessa cosa in altri ruoli cioè quando twitter è diventato twitter per me rimarrà così io ad esempio faccio parte di un di un'istanza su mastodon ma io mastodon lo vedo difficilmente come un rimpiazzamento di twitter perché perché da un certo punto di vista ho sposato l'idea di livello segreto che è appunto l'istanza dove mi sono iscritto e quindi da questo punto di vista vedo molto più la timeline locale con persone che condividono l'idea che Kenobit ha delfi diverso e quindi da questo punto di vista sono molto affezionato alla community ma anche lì non essendo un posto che nel tempo mi sono costruito leggo molto ma difficilmente posto esattamente come su instagram io instagram cosa faccio lo uso come fruitore esattamente come youtube ci posto le puntate del di e-tech ci posto le puntate del podcast che sarà un po cacofonico però metto le puntate di e-tech però per il resto lo fruisco da utente ad oggi per me la casa è il podcast per me la casa è twitter quindi pur apprezzando threads e pur volendo sfruttare quel social network per in qualche modo accrescere quello che poi è chiamiamolo anche il bagaglio culturale personale cioè quando leggiamo una cosa la singola informazione in qualche modo che può essere anche magari una cavolata comunque impariamo qualcosa cioè quando su twitter leggiamo la breaking news che poi magari approfondiamo da altre parti veniamo a conoscenza di un aspetto e questo aspetto secondo me è il punto trainante però non ho ancora visto realtà solide su altre piattaforme quando non so è morto berlusconi la breaking news tanti di noi l'hanno letta magari su twitter poi sky tg24 ha dovuto comporre la storia di ultimora quindi giallo e nero e metterla nelle stories fare il post ma sicuramente un annuncio come è morto a 86 anni al San Raffaele Silvio berlusconi l'abbiamo letto dal tweet dell'ansa o meglio io l'ho sentito al bar però poi la prima conferma cos'è twitter ad oggi resta twitter e difficilmente quel ruolo verrà stravolto se non con una realtà importante come threads che deve essere ancora lanciato nel nostro paese che però deve essere consolidato e deve essere consolidato da una parte con la volontà di crescere come piattaforma in tutto e per tutto come social e quindi ad esempio oggi è arrivato l'annuncio della possibilità di cercare i post e non solo gli utenti di modificare i threads e quindi da questo punto di vista mi rendo conto che ad oggi threads è una startup però io la riconosco tanto startup quanto lo è la twitter di Elon Musk perché partiamo da zero ovviamente twitter è già qualcosa di consolidato però pensiamo semplicemente all'instagram prima dell'acquisizione da parte di Musk cos'era adesso abbiamo i reels abbiamo le stories e sicuramente le stories stanno quasi più prendendo il sopravvento rispetto ai post tradizionali i dm di instagram i canali broadcast che sono i canali telegram di instagram quindi in qualche modo vediamo queste grosse app che si stanno creando cioè su instagram abbiamo ovviamente oltre al vecchio social delle foto prendiamo anche flicker abbiamo flicker abbiamo youtube per quanto riguarda i video abbiamo snapchat con le storie e abbiamo tiktok con i reels e adesso abbiamo anche i canali telegram e da questo punto di vista eccoli la super app e poi abbiamo threads che è un'applicazione a parte perché deve essere trattato come qualcosa di diverso e spero che questa cosa cresca perché io ho bisogno di vedere qualcosa che cresca in quel lato che è il lato del microblogging che ha le sue regole la cosa bella di twitter è che nel tempo non è cresciuta perché perché aveva pochi utenti affezionati ed è la cosa più bella del mondo è l'aspetto più importante rispetto alla concorrenza perché twitter fino all'acquisizione da parte di Elon Musk sicuramente non era il social più diffuso era l'aspetto più fondamentale della vita era qualcosa di importante per gli appassionati per esempio di tecnologia però non non aveva la pretesa di stravolgere il mercato cosa che in realtà adesso Elon Musk sta facendo quindi sta portando twitter blu sta portando importanti abbonamenti consistenti nel senso che ovviamente oltre a quello standard c'è anche quello per le aziende ma chi ha la spunta ha ad esempio accesso al nuovo tweet deck ha accesso appunto ai messaggi o ai tweet più lunghi ai post infiniti agli highlights a che cosa in più verificato che boh per me non è una risorsa però appunto sta cambiando quello che spero abbia in mente Zuckerberg è quello di una piattaforma solida come la vecchia twitter eccola di nicchia ma che nel tempo si evolva come la vecchia twitter ad esempio con la possibilità di utilizzare app esterne come ivory se Zach volesse e io in un giorno qualunque come canterebbe il buon mengoni potessi iniziare ad utilizzare threads con ivory ecco che potrebbe essere la mia nuova casa perché ho l'interfaccia che conosco ho comunque un'utenza che sta crescendo ma ho la mentalità della vecchia twitter che è la cosa che oggi manca di più detto questo fatemi sapere il vostro punto di vista perché voglio conoscere tutto quello che avete da dirmi ringrazio marta per lo spunto vi lascio nelle note dell'episodio i link a tutti i miei social twitter mastodon bluesky threads pelegram ovviamente vi lascio il link al al podcast che feci ai tempi su zuckerberg su zuckerberg che odia gli ipad e noi ci sentiamo mercoledì prossimo alle 17 con un nuovo episodio di e-tech ciao